Mailboxes a Cava dei Tirreni, unica sede in via Vittorio Veneto 19. Soddisfa tutte le tue esigenze. Stamattina l'Università degli Studi di Salerno ha ospitato un appuntamento incentrato sui diritti connessi alla tecnologia, proposto avendo come obiettivo la discussione sulla sicurezza cibernetica, un tema che certamente è di attualità e che continuerà a essere trattato in sede istituzionale per rendere il web più sicuro possibile. L'Aula Magna, intitolata al professore Vincenzo Buonocore, sita nel campus di Fisciano, è stata a teatro dell'evento presentato dalla Fondazione SERIX, acronimo per Security and Rights in the Cyberspace, al quale hanno partecipato anche il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, oltre al magnifico Rettore dell'Ateneo salernitano Vincenzo Loia e al Prefetto di Salerno Francesco Russo. Il progetto di partenariato esteso SERIX si presenta come una forte aggregazione di università pubbliche, istituzioni universitarie, fondazioni, centri di ricerca e grandi aziende di interesse nazionale. L'Università di Salerno sostiene questo progetto e l'evento ha fornito l'occasione per illustrare mission e obiettivi della Fondazione, alla presenza di tutti i suoi partner e con la partecipazione delle principali istituzioni del settore. La Regione Campania, come ha detto il Presidente De Luca, ha sempre a cuore la sicurezza cibernetica, soprattutto per quanto riguarda il sistema sanitario. E Piantedosi ritiene che non possa esserci una buona amministrazione senza un'eccellente ricerca in ogni campo.